Ci sono cose che non riesco a fare più da sola. Per questo ho Robby, che mi aiuta nelle faccende di tutti i giorni. Lui cucina per me, mi aiuta con il computer, va a fare la spesa e spolvera il mio posto. È ovvio che Robby non è di grande aiuto, ma per fortuna posso contare su Prosenectute. Avete bisogno di un sostegno personale? Noi siamo qui per voi. Noi siamo qui per voi.